Ci sono sostanzialmente due tipi di voci, c'è la voce naturale e la voce microfonica. Quando la vostra voce passa attraverso il microfono avviene un'alchimia, avviene un passaggio, questa trasduzione delle nostre onde sonore, della nostra voce, questa trasduzione in un segnale elettrico. E questo segnale elettrico quindi porta, trasforma la nostra voce naturale in una voce che io definisco microfonica perché passa attraverso il microfono. Ora, come verrà fuori però la vostra voce microfonica? È una magia, è un'alchimia, è qualcosa che è imprevedibile e che io definisco una sorta di algoritmo. Perché è vero che il risultato è imprevedibile e dipende da questo strumento che filtra la vostra voce e lo trasferisce in un segnale elettrico. Quindi la trasduzione elettrica della vostra voce sarà vostra e diversa da quella di altre persone e questa trasduzione potrà aiutarvi o penalizzarvi. Ed è questa la differenza che c'è quando dite, quando sentite al telefono qualcuno, che bella voce che ha una voce radiofonica. E perché questa voce ha avuto la fortuna di avere delle sonorità che quando passano attraverso quest'algoritmo restituiscono delle sonorità microfoniche barra radiofoniche. Cioè la voce microfonica che viene fuori è anche armoniosa da ascoltare come le voci che ascoltiamo per radio oppure degli speaker e dei doppiatori. Che succede? Siccome questo è un passaggio quindi regolato da questa sorta di algoritmo imprevedibile, quello che dobbiamo fare, soprattutto se siamo all'inizio e non abbiamo esperienze col microfono, e di registrarci col microfono e riascoltarci il più possibile. Perché la nostra mente deve cominciare ad associare il suono della voce naturale con il suono della voce microfonica affinché ci sia poi una perfetta sovrapposizione, un bilanciamento tra la nostra memoria sonora della voce naturale e la memoria sonora che acquisiamo attraverso l'uso delle cuffie e il riascolto della voce microfonica. Quando avviene questa sovrapposizione, allora è come se la nostra mente riuscisse a decodificare questo famoso algoritmo. Quindi se la mente riesce a decodificare l'algoritmo e quindi impara a conoscerlo, vuol dire che sa anche quale sarà l'effetto che la propria voce naturale avrà quando passerà per la trasduzione del microfono. Quindi per poter avere una voce radiofonica e quindi quella voce che tutti amano ascoltare e che casualmente capita quando una persona che fa tutt'altro lavoro, per esempio io ho un allievo che fa, è un imprenditore edile e ha una voce bellissima, cioè molto radiofonica, ma è una questione di sonorità sue e che poi passando attraverso il microfono si amplificano queste qualità. Però come si fa a fare questo? Non è una cosa prevedibile. La nostra voce è questa, poi attraverso il microfono esce fuori la nostra traduzione o trasduzione microfonica. Per andare a rendere la nostra voce più radiofonica, dobbiamo operare in termini di sovrapposizione di voce naturale e voce microfonica. Perché noi, se abbiamo la facoltà di modificare questa, che comunque c'è attraverso l'uso delle cuffie, però poi, se lavoriamo soltanto sulla voce microfonica, diventa una voce un po' falsata, diventa una voce un po' troppo, quella che diceva si è troppo impostato. Perché all'epoca, vent'anni fa, trent'anni fa, la voce impostata, quella dei grandi speaker e gli annunciatori della RAI, erano la voce quella classica, oppure anche i doppiatori erano molto impostati. Adesso la voce impostata non piace più, comunque sei antico. Quindi dobbiamo essere il più possibile naturali. Ma per rendere quindi naturale la nostra voce, io dico sempre che è importante quindi avere un riferimento riguardo all'ascolto, quindi avere nella cuffia il nostro ritorno in una cuffia. Nell'altro, proprio come avviene nel doppiaggio, dobbiamo invece cercare di lasciare questo padiglione libero, in maniera tale che ci esercitiamo anche con la nostra voce sonora, la nostra mente riesce a creare questo binomio, questo bilanciamento, quando si sovrappongono i due suoni, allora da qua, correggendo questa, riusciamo a correggere anche quest'altra, e correggendo quest'altra riusciamo a correggere anche questa. Quindi cosa significa? Abbiamo un doppio vantaggio quando si crea questa sovrapposizione, perché la nostra mente, avendo decodificato l'algoritmo, se andrà a migliorare la voce radiofonica, ci sarà una ripercussione, una riflessione molto positiva anche sulla voce naturale. Allo stesso tempo, se la voce naturale riesce a decodificare l'algoritmo e rendere migliore la nostra voce microfonica, avremo appunto due voci perfettamente allineate e molto gradevoli da ascoltare, sia con il microfono che senza microfono, nella vita di tutti i giorni.